Sono arrivato in ritardo, però arrivando ho sentito una cosa che non è esatta, la Lega ha bisogno come il pano di alleanze, non è vero, la Lega non ha bisogno di alleanze, ha bisogno di allearsi con patti chiari, con chi ci crede, con chi crede che è possibile, che si deve cambiare lo Stato e dare ai popoli di questo Stato la loro libertà, a questo crediamo, sarebbe un dramma se la Lega crescesse in voti e il Nord va avanti a pagare un residuo fiscale colossale di 100 miliardi di euro ogni anno, sarebbe una sconfitta, non una vittoria. Le vittorie elettorali devono essere, vogliono, devono poter dire che si possono cambiare le cose, perché tanto il paese così come è adesso è destinato ad andare a picco, non si salverà a nessuno, nessuno. Vedete, i giovani che non lavorano, tra qualche anno sarà un dramma, sarà la guerra civile, i giovani che non lavorano non pagano contributi, quindi non avranno col metodo contributivo diritto alla pensione, saranno senza pensione e allora li vedremo allora i giovani, saranno così tolleranti come adesso. Stiamo andando verso un futuro non rosio, ma fosco, scuro di questo passo. Non abbiamo assolutamente bisogno di cambiare le cose, quindi alleanza, certo, con chi è ragionevole, con chi capisce che le cose devono cambiare. Che il nord non può essere più schiavo come è stato per tanti anni, tenuto schiavo dallo Stato italiano che vergognosamente non è mai uscito dall'oscurità fascista. A chiacchiere, ma non ha fatti. E allora noi diciamo che bisogna cambiare. Benvenuti gli alleati che vogliono cambiare. Ho letto sul giornale che la Lega farebbe accordo con Grillo. Prima ci deve spiegare cos'è il rischio di cittadinanza. Io me lo sono letto quel disegno di lei. Prevede una spesa di 17 miliardi. Ma come? Ma se lo Stato italiano non ha i soldi per pagare i 19 miliardi che servono per pagare, diciamo, i danni fatti dalla legge Fornero ai pensionati. Ebbene, se non ha i soldi per pagare i pensionati, come fa Grillo a avere i 17 miliardi per dare il rischio di cittadinanza agli immigrati che sono qui da almeno due anni? Cioè tutti. Me lo dici. E di più? La copertura di 17 miliardi viene fatta. Con l'Imu. È bravo. Noi già, tutto il paese fa fatica a pagare le tasse sulla casa. Adesso gli aumentiamo le tasse sulla casa per dare i soldi agli immigrati secondo Grillo. Ebbene, sarà difficile che la legge possa fare accordi. In quale condizione? Noi vogliamo chiarezza e accordi scritti. Altrimenti tutto si traduisce in una festa di colori. Però non basta. Occorre crederci e fare fatti onesti. Allora sì che si arriva forse al cambiamento. Io sono sicuro che anche il Sud non ci ha guadagnato niente. Il Nord è stato sottoposto a pressione enorme, fiscale enorme, che l'ha messa in ginocchio per mantenere l'assistenzialismo. Ma l'assistenzialismo non aiuta se distribuisce un po' di soldi. Ma il Sud oggi lo prova sulle sue spalle. Non ha posti di lavoro. Perché? Invece di partire aiutando gli artigiani, aiutando dal basso a far crescere un sistema produttivo nel Sud, se un partito dall'alto, qualche grande impresa per rubare di più al Nord, l'Alibe per rubare di più. Ma le grandi imprese si traducono. Se non c'è un sistema produttivo sviluppato tutto attorno, si traducono in cattedrali nel deserto, come è avvenuto e come sta continuamente a venire. Non era quella la via. Il modello era il sistema produttivo industriale lombardo. Sostenere, finanziare gli artigiani che poi diventano piccole imprese. E le piccole imprese che poi diventano grandi imprese. Come si fa a finanziare grandi imprese dove manca il sistema produttivo? Se un'impresa del Sud ha bisogno di una vite, deve ordinarla al Nord. No, è stato sbagliato completamente il sistema produttivo. E per quello che va avanti... Roma voleva l'assistenzialismo per tenere una buona parte lei e qualcosa distribuirla agli altri, chiedendo al Sud di compartecipare al banchetto assistenziale dell'assistenzialismo con Roma. Ma oggi anche il Sud... Io ho parlato con molta gente del Sud quando c'è stata una festa a Roma. Tutti lamentavano che non c'era lavoro. Esattamente. La stessa mano è paradossale che il rubo al Nord crea la mancanza di lavoro al Sud. Bisogna... Forse c'è... Forse oggi c'è la possibilità di... Visto che le difficoltà ci sono anche al Sud per la prima volta... Forse può dare una mano al Nord, andare a battaglia. Dico questo perché noi abbiamo fatto il federalismo fiscale, è passato alla Camera, è passato al Senato. Però il Presidente Napolitano non l'ha firmato. Ha chiamato. No, non fischiato. Perché poi la magistratura dice che è colpa mia se fischiate. Eh, sì, a Bergamo ha un processo. Perché la gente... Io ho detto che il federalismo fiscale non era passato perché Napolitano non l'aveva firmato. Anzi, aveva chiamato... Diciamo... Aveva chiamato Monti e Monti non l'ha cancellato. L'ha spostato in là. Negli anni, nei secoli. Non abbiamo bisogno di risposte. Adesso, non negli anni, nei secoli. Ebbè, c'era una responsabilità. No. La Lega e il Parlamento, diciamo, è approvato il federalismo fiscale. Poi, l'ha cancellato. Napolitano l'ha allungato nel tempo. Questo non va bene. Ne abbiamo bisogno di gente che capisca che c'è una sola soluzione alla situazione del Paese. cambiarlo. Cambiare il Paese. Fare un Paese più libero che riconosca la libertà di tutti i popoli italiani e gli dia la possibilità di galoppare verso il loro sviluppo, verso il loro futuro, non di miseria, ma di forza, di economia. Quindi, queste sono le cose che noi dobbiamo... Poi, il governo... Sentivo prima, Luca, il governo... Eh, non sa fare neppure le cose semplici. La riforma della scuola è una riforma più che altro assistenziale, così com'è adesso. Possibile che non sia capace di capire e di chiedersi che non va bene che l'Italia sia l'unico Paese europeo in cui, per mandare dalla prima elementare al diploma, occorrerò 13 anni. Cioè, il doppio di tutti gli altri paesi. Eh, c'erano 13 anni. Così la scuola costa moltissimo, perché 13 anni bisogna di moltissimi insegnanti. E' impossibile che il governo abbia bisogno che... Venga io a Pontino a dirgli, ma guarda che... No, dire la verità l'aveva detto anche Renzi. Io ridurrò di un anno il tempo per andare al diploma. Però poi era già qualcosa un anno, perché faceva risparmiare il 7-8% allo Stato. Però, ma che? Tutto viene fatto per ottenere quattro voti. I voti, caro Renzi, non sono niente, anche in democrazia. Se non sono finalizzati a migliorare, a cambiare il Paese, se invece il Paese resta sempre uguale, al di là delle chiacchiere che fai, allora è meglio. Non sono importanti quei voti. Noi lo diciamo qui, per fare accordo, per fare alleanza con noi, che non chiediamo ai voti per i voti, ma ai voti per le riforme, per il cambiamento del Paese. Noi diciamo che i voti per i voti, a cui crede Matteo Renzi, a noi non interessa molto. Nella Lega spero che sia ancora così, che nessuno interessa i voti per i voti. Sì, si assorberebbe solo in poltrone per un po' di gente, ma cosa volete che sia nel poltrone, se non cambia niente? È vergogna stare su una poltrona quando il Paese soffre e la politica riesce a cambiare. Questo non va bene, non va bene. Stanno preparando, hanno paura della rivoluzione, ma la rivoluzione verrà. Pensate quanti giovani non avranno diritto, scopri, toccheranno con mano chi non avrà la pensione. Non lavorano, altro che balle, si è creato lavoro. I giovani non hanno lavoro, non pagano contributi e quindi fatalmente non otterranno la pensione. La vedremo bella nei prossimi anni. Altro che fare come... oppure facciamo come ha fatto Prodi. Quando era Premier Prodi ricevette una lettera dall'Europa che gli chiedeva conto delle casse pensionistiche italiane. Erano due, la cassa, l'Indap, la cassa del pubblico impiego e l'Inps, la cassa dei lavoratori del compartimento privato. Cosa ha fatto Prodi? Ha preso l'Indap e l'ha messo nell'Inps, mandando a picco anche l'Inps. Perché, vedete, lo Stato italiano, vergogno dirlo, apro le orecchie, in tutta Europa, lo Stato italiano non paga i contributi ai propri dipendenti. E quindi, e quindi, l'Indap era pieno di debiti. Lo Stato italiano non paga i contributi, un crabiniere, un poliziotto, non si vede... Lui non li piglia i contributi, ma lo Stato non li paga. E quindi, ovvio, l'Inps a pagare le pensioni senza aver ottenuto i contributi. Una situazione drammale, un paese che, diciamo, fa schifo così. Come si fa a tenere un paese così male? Un paese che finirà male, tra non molto, comunque finirà male. Voi vi illudete di tenere fermo tutto, di non cambiare niente, di pensare ai vostri voti e basta. Finirà male, anche gli immigrati. Parliamoci chiaro, non si può, ho sentito prima Zaglia, è bene, è molto semplice. Non è possibile fare, non si può fare l'immigrazione se non c'è lavoro. Perché solo il lavoro fa da collate, crea integrazione. Senza il lavoro non è possibile l'integrazione. E oggi non c'è lavoro, quindi non è possibile l'immigrazione. Questa era la semplice realtà. Io ho fatto la legge a basso i fini. Che per quanto poco è stato un primo no, un primo segnale anche ai paesi, da qui immigrava la gente, che non si poteva immigrare clandestinamente. Io avevo previsto il carcere perché se ne fotteva dalle nostre leggi e veniva qui e ci imponeva tutta una serie di cose. Io avevo fatto quella legge per quella, per mandare un messaggio. Guardate che non è uno scherzo. Noi non possiamo fare l'immigrazione. Se venite, ci costringete a fare cose che non possiamo fare, c'è anche il carcere. Questa è la legge possibile. Può venire e può restare solo chi ha il lavoro. Perché senza lavoro salta il paese. Altro che fare l'immigrazione. È una follia fare l'immigrazione. Non è che è una questione di essere buoni o no, o cattivi. Senza lavoro non si può fare l'immigrazione. Punto. Questo resto sono chiacchiere. Di chi non si arrede alla realtà. La realtà è che il governo parla molto, ma il lavoro cresce molto poco. E tutto questo tradurrà un disastro. Al nord, al su, ovunque. Quindi io voglio mandare un saluto. A un popolo a cui mi sento molto legato. parterra, parmar, san marco, parterra, parmar, feraria, la padagna. Grande strumento di difesa contro uno stato centralista e fascista. L'Italia che non vuole cambiare, non vuole dare una mano ai suoi cittadini. guidate da forze politiche, tutti attenti alle loro sedie. Buttate, spaccatele le sedie, rompetele le sedie. Non servono a niente se non c'è anche del buono nel governo del paese. E del buono purtroppo non c'è. La Lega non farà accordi con chi, con chi vuole andare avanti così, in questo modo. Noi vogliamo accordi con chi vuole cambiare le cose. Guardate, in questo prato qui, nella chiesa là in fondo, passarono i rappresentanti dei comuni lombardi, secoli fa. fecero un patto, un patto scritto. E sconfisso il più grande esercito di quei tempi, l'esercito del Barbaros. Fu sconfitto, poco distanto, in una battaglia epica. Non è cambiato niente. Che oggi siete voi. Voi dovete sentire l'orgoglio di aver visto in passato che il popolo, i popoli, dandosi la mano, sconfissero. Il Barbaros, l'esercito tedesco, gigantesco esercito tedesco. Ebbene, le lame lombardi tagliarono la testa. Perserà, dopo Puntino venne Legnano. E dopo il patto, dopo la fede, vengono rifatti e venne la vittoria della fede degli uomini di fede. Noi amiamo, io amo gli uomini di fede. E amo i popoli che non vogliono vivere alle spalle degli altri, ma vogliono cambiare le cose per poter vivere, lavorando anche loro con un sistema, un sistema industriale come quello di Lombardo. Quella era la scelta da fare anche a sud. L'esercito era lì sotto gli occhi. Ma che hanno fatto l'assistenzialismo. Bravi bestie. Adesso bisogna cambiare le cose. Non sapete cambiare. Vengono i popoli a cambiare le cose che voi non sapete fare. E facciamo noi quello che voi non sapete fare. Amici, un apprezzo. Un simbolo. Un grande simbolo. Un simbolo. Come i simboli sono la Catalogna. Sono i maschi. Tutti i popoli che hanno dovuto muoversi, partendo dal basso. Sconfitti sulla carta. E vinceranno. E verrà l'Europa dei popoli. I popoli avranno lavoro. Potranno vivere del loro lavoro. Senza l'emosinare. E cambieranno così. Io spero che tra voi tutti ci sia questa voglia. La voglia di patti chiari. Di fede. Viva la libertà, amici. Viva. Viva il cambiamento. La dignità. Dei popoli. Questo vuol dire poi dai. Dignità. Di tutti i popoli. Grazie, fratelli. Padaglia. Oh. Non muore mai. Non muore mai. Ricordate. È una vergogna. Il Parlamento italiano ha deciso. Ha votato il federalismo fiscale e il Presidente della Repubblica non firma la legge del Parlamento. Ma che democrazia è questa? Che democrazia è questa? Oh. Se ci crediamo vinceremo. Vinceremo come ha visto come ha vinto l'Italiano i comuni lombardi. Bisogna crederci e sapere che bisogna rispettare gli altri. Cioè poi chi vuole rispetto deve essere pronto a rispettare gli altri. Se no non viene... Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.